Parliamo di up to no good. Che cosa vuol dire? Qualcuno che è up to no good vuol dire che sta tramando qualcosa, che sta facendo qualcosa di non buono, ok? Quindi di cattivo, no good. Una madre e un padre potrebbero, che ne so, guardare i figli in giardino giocare e dire, oh, they're up to no good again, ok? Quindi stanno tramando qualcosa, ne stanno combinando una, stanno combinando qualcosa in giardino, di non buono, no good. They thought we were up to no good, but actually we were just helping that old woman. Ciao! 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 Grazie per la visione!